GF VIP, Antonella Fiordelisi in Del Padre, fatele una sorpresa. Evoluzione continua al GF VIP. Dopo l'ultima puntata, Antonella Fiordelisi per la prima volta dovrà fare i conti con le nomination. E, sulla questione, si è mostrato preoccupato anche il padre della giovane, Stefano Fiordelisi. Che, in un post ha espresso il suo timore. E la stessa Jeffina, in lotta con quasi tutta la casa. Sembra essere in una situazione instabile. Leggi anche Beatrice Valli, frecciatina alla sorella Ludovica dopo la nascita del secondo figlio, non voglio darglielo. Cosa ha detto? Stefano Fiordelisi, dopo una diretta su Instagram, ha deciso nuovamente di intervenire sulla vicenda tramite il suo profilo social lanciando un duplice messaggio per sostenere la figlia, situazione al limite. Il messaggio breve e conciso di Stefano Fiordelisi è riferito alle accese discussioni consumatisi nel corso della diretta che hanno visto la giovane piuttosto tartassata dalle critiche di alcuni coinquilini. Lo sconforto della giovane è stato evidente al punto da portare il padre, Stefano Fiordelisi, a lanciare un vero e proprio appello agli autori. Una ragazza deve arrivare, dopo cinque mesi, a pregare per poter avere una sorpresa, lo schifo che mi fate provare scrive un utente su Twitter. Messaggio prontamente rilanciao da Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, sul proprio profilo Instagram. A tale pensiero, il padre ha aggiunto, almeno un'amica, fate questo sforzo. Cosa succederà a tendere la prossima puntata per scoprire se l'appello di Stefano Fiordelisi sarà stato udito e accolto? Grazie. Grazie. Grazie.